Un comportamento assurdo e anche vergognoso, un'ennesima giravolta che il governo fa in tema dei vaccini, su un tema tanto delicato che riguarda la salute dei bambini, soprattutto dei più fragili, e la salute pubblica. Una scelta scellerata, quella del governo, di ripristinare l'autocertificazione con la scusa della semplificazione amministrativa. Una scelta invece che mette a repentaglio la salute dei bambini e soprattutto nelle comunità scolastiche. Caduto nel vuoto l'appello di medici, scienziati, presidi, famiglie di un paese intero che chiedeva di non retrocedere sull'obbligatorietà dei vaccini.